sono qua presenti, c'erano a queste iniziative e ci ha toccato il cuore un po' tutti perché noi oltre a essere un movimento politico, oltre a fare politica siamo, prima di tutti, lo sappiamo, un gruppo di amici e tante volte andare a un gazebo, andare a una cena, andare a fare un volantinaggio non è semplicemente fare politica ma è stare insieme, perché dopo tanti anni che ormai ci conosciamo, io penso tra virgolette a quelli un po' più anziani, penso a Enzo, penso a Filippo, penso a Cristian, penso a Davide, tutti i ragazzi quelli un po' più anziani ne abbiamo vissute, abbiamo vissuto tanti eventi insieme, penso a Diego, abbiamo vissuto tanti eventi insieme ed è sempre stato bello perché abbiamo fatto le cose, le facciamo tuttora perché ci crediamo e perché stiamo bene insieme, non solamente come si dice per la cadrega, perché a nessuno interessa quella, a noi interessa solamente portare avanti le idee di libertà e di federalismo.